Per Mario Tirone possiamo dire che comincia una nuova avventura. Sabato scorso in via Cappuccini a Sulmona è stata inaugurata la sua nuova palestra. In un momento di particolare difficoltà che colpisce il nostro territorio, Tirone ha deciso di cambiare sede con un nuovo investimento. Un atto di coraggio se si considerano le spese da affrontare per l'acquisto di nuovi materiali e per il reperimento di attrezzature di ultima generazione. Dunque si tratta di un reinvestimento sociale ma anche salutare con programmazioni personalizzate per la tonificazione muscolare, il dimagrimento, l'aumento della massa muscolare, il recupero post-traumatico, l'avvio graduale dell'attività sportiva e la preparazione atletica in qualsiasi sport. Accanto all'attività fisica sarà possibile seguire anche un programma dietetico, un aspetto importante questo se si considera come una cattiva alimentazione può provocare notevoli patologie e danni alla salute. A Mario e a tutto il suo staff il nostro sincero in bocca al lupo.